Siamo con Giulia Melli, la schiacciatrice di Golden 2 in Popolato Caserta, una vittoria questa sera veramente da l'ultimo con quel punto a punto finale. Sì, ci hanno tenuto sulle spine col fiato sospeso, ci hanno fatto diventare matte, però alla fine palla su palla si è riuscite a spuntarla. Loro sono una squadra che non molla veramente mai, perché comunque dopo anche un primo set dove sono partite un po' così così, noi siamo partite molto bene, sono riuscite a cambiare la partita subito e a restituirci il favore, diciamo, portando la partita su una pari. Poi noi non abbiamo mollato, ci siamo un pezzo d'animo, abbiamo dato veramente tutte le stesse e l'abbiamo portata in campo. Questa sera avete dimostrato che le vittorie che contano sono quelle appunto nel finale, nel playoff. Qui a Trento avevate sempre perso e questa sera invece la vittoria è quella che vale. Diciamo che le solo tre partite le abbiamo perse, 3 su 4, sempre in casa, 1-3-2, un po' un po' lottata e oggi fortunatamente veramente abbiamo dato tutto, tutte le stesse. Qualsiasi cosa l'abbiamo abbiamo dato perché veramente è una gran squadra e solo così potevamo provare a batterle. Allora io ti faccio i complimenti per questa sera e comunque un grande in bocca al lupo visto che a breve dovete già pensare da dopodomani, da domani, anzi, alla finale. Grazie mille, ciao!